Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico verso Roma tra B1 a 11 e Firenze Scandicci. Carreggiato opposto è quindi verso nord, coda tra B1 a 11 e Barberino del Mugello. Trovano oltre coda per traffico in uscita a Calenzano, provenendo da Firenze, in uscita a Firenze Scandicci nelle due provenienze. In A11 restano code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e per traffico tra Pistoia e il Bivio Colla 1, il tutto verso Firenze. In Vipilicode a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci, sempre verso Firenze sale a 3 km la coda per incidente tra Montopoli e Santa Croce sull'Arno. Troviamo inoltre coda in uscita a Santa Croce, provenendo da Firenze, per viabilità esterna che non riceve. Muoverse in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!